Stanchi di una situazione al limite che va avanti ormai da troppo tempo, i 20 addetti autorizzati della Porter Service, quelli che per ogni borsone fanno fattura e pagano le tasse, hanno ripreso ciò che avviene quotidianamente per opera dei portabagagli abusivi, si avvicinano, raccontano neanche te ne accorgi, poi ti prendono la valigia, sorridono, sembra che siano passanti gentili che vogliono aiutarti, poi però iniziano a chiedere soldi, mani, 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 pochi mani continuano a sorridere e non te ne liberi più, una tecnica consolidata che spesso dà anche i suoi frutti. Grazie a tutti.